Le dico questo, certo che mi dispiace vedere la gente a cui voglio bene prendere delle pieghe strane, no? Come se lo spiega? Però non esageriamo, adesso lui ha abbracciato Peppone e dice che vota Salvini. La sua fortuna è che quella era una statua, che se fosse stato Peppone sul serio non so come veniva a casa. Perché a lui non lo voterebbe neanche Don Camillo e neanche Gino Cerri che era un liberale. Cattolici, liberali e nazionista storico. Sono cose serie. Non lo votano tutti questi. Perché ha il 30% in Emilia. Non potrebbero avere il 30% in Emilia se quel pezzo di società hanno un pezzo. Cattolici, laici, liberali.